Torna questo appuntamento, insomma, molto gradito dai cittadini, dagli sportivi. Sì, molto gradito, è un grande classico di Arezzo, grazie a Nicola Iachini, alla Fit & Fight, a tutto il suo team che mette a disposizione della città l'esperienza negli sport da combattimento e la grande capacità anche di creare spettacolo, perché questo, come ho sempre detto, questo evento unisce le capacità degli sportivi che si incontrano appunto al sport delle caselle, ma anche un grande spettacolo, perché è sempre la parte scenica, la parte che accompagna queste vere e proprie esibizioni, poi che sono comunque dei match importanti, ufficiali, è sempre veramente molto curata e quindi è uno spettacolo nello spettacolo. Vedremo veramente dei bei incontri, abbiamo praticamente a Galiu contro Buras, che chi vince va a combattere in Cina, ha tre match in Cina nel 2025, abbiamo Torres contro Tariq, che è il vincitore che combatte il 29 novembre in Albania e tanti altri incontri molto importanti. Gli sport da combattimento, insomma, come quelli che voi fate, hanno un appeal sempre più importante negli sportivi, nella cittadinanza, anche nei ragazzini forse. Sì, diciamo che negli ultimi anni i numeri sono cresciuti abbastanza, di questo è una delle soddisfazioni che ci teniamo più di tutte, perché crescere lo sport, credo che lo sport sia salute, crescere lo sport è un obiettivo ai ragazzi, portare gente un po' da tutta Italia ad Arezzo, per noi è una soddisfazione. Tante realtà, questa è una di quelle che portano nella nostra città quello che è un po' il turismo sportivo. Esatto, sì, perché è un evento che bene o male impegna due giornate alle caselle, ci saranno comunque dei atleti che dormiranno ad Arezzo, sia prima, sia dopo il match, gli atleti anche internazionali che vengono anche da fuori, dal nostro paese, e quindi crea un indotto che anticipa un po' quello del Natale. Quest'anno siamo riusciti a impostare l'evento non in contemporanea, quindi ringrazio anche la SBA che ha metto a disposizione il palazzo delle caselle, che è sempre un palcoscielico importante per i nostri eventi sportivi. Siamo vicini al sold out. Sì, 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 sì.